Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG6 in apertura. La cronaca, andiamo subito all'Aquila, picchia la compagna incinta, un 27enne romeno per questo è stato arrestato dagli agenti della squadra volante dell'Aquila, a suo carico altri reati del genere in passato. Il servizio è di Daniela Rosone. Picchia la compagna incinta ma interviene la squadra volante della questura dell'Aquila diretta dal dottor Roberto Mariani. Una segnalazione fatta direttamente dalla giovane, un'aquilana di 27 anni, alla sala operativa, dalla frazione aquilana di Monticchio. La segnalazione riferiva di una lite accesa tra conviventi. La pattuglia una volta raggiunta l'abitazione si è resa conto della donna incinta, era in preda di una forte agitazione e riferiva agli agenti dell'ennesima lite degenerata in percosse con il proprio convivente, un 27enne di origine rumene. La giovane donna ha raccontato agli agenti che a scatenare l'atteggiamento violente e aggressivo dell'uomo era stato un rimprovero e lui l'aveva aggredita davanti alle due figlie minori di 4 e 9 anni. Il giovane di origine rumene è una vecchia conoscenza dell'ufficio di polizia che annovera numerosi pregiudizi di polizia a suo carico, tra cui lo stesso reato di maltrattamenti in famiglia, è stato subito tratto in arresto e dopo l'udienza di convalida è stato accompagnato presso un domicilio indicato dallo stesso, diverso ovviamente da quello familiare in regime di arresti domiciliari. A seguito delle dimissioni presentate da 18 consiglieri su 32 del comune di Teramo, il prefetto di Teramo Graziella Patrizzi ha sospeso il consiglio comunale e contestualmente ha nominato commissario prefettizio il prefetto Luigi Pizzi per la provvisoria gestione dell'ente. E' stata avviata altresì la procedura di scioglimento del consiglio comunale con l'invio della relativa proposta al ministero dell'interno per il conseguente seguito di competenza. Al commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta. Nativo di Ascoli Piceno Luigi Pizzi tra le altre cose ha svolto l'incarico di vice prefetto Vicario presso le prefetture di Pistoia, Campobasso e infine Venezia. Ed è stato nominato prefetto il 31 luglio del 2009 nel corso della sua carriera Luigi Pizzi ha disimpegnato vari incarichi commissariali presso comuni delle province di Chieti, Pescara, Campobasso e Venezia. Cambiamo pagina su quanto accaduto nell'ultima banca autonoma presente sul territorio abruzzese. La Carichieti, oggi UbiPanca, i sindacati di settore Fabi, First Cisle e Fisac CGL hanno presentato questa mattina a Pescara una ricerca con una ricostruzione dei fatti effettuata con documenti sindacali. Paolo Renzetti Quali sono i motivi di questa conferenza stampa? Questa mattina si parla della nuova banca di UbiPanca, del gruppo bancario nato dalle ceneri di Carichieti. Diciamo che è un lavoro che mette un punto fermo sulla storia e su come si è arrivati a questa evoluzione. La Carichieti era l'ultima banca presente autonoma sul territorio abruzzese e quindi siamo stati così bravi da perdere anche quella, grazie a una gestione non proprio appropriata. Oltre ad altre questioni che troverete poi nel libro online che abbiamo fatto in questo lavoro, appunto per rimarcare che ci sono delle responsabilità che vanno trovate perché questa è una situazione che va a documento sia del territorio, sia di colleghe, sia della clientela. Dal 26 di febbraio Carichieti, oggi Banca Tatina non esisterà più, si chiuderanno 12 sportelli. Però questo lavoro è un lavoro più che altro per fare il punto fermo sulla storia, su quanto è accaduto perché è importante che ci sia memoria storica. Ci sono in questo libro che è in rete, l'abbiamo voluto costruire così proprio per dare la possibilità a tutti di farsi una idea di quanto è accaduto. Documenti giornalistici, documenti sindacali, documenti, c'è il documento della Banca Italia in cui si potranno trovare tutto ciò che è accaduto in questa banca. E si capisce in sette anni come è stato distrutto un grande patrimonio della nostra regione. Sindacati critici su quello che è stato in Carichieti fino ad oggi, si parla anche di futuro, siete preoccupati per le prospettive oppure il futuro è positivo per l'ex Carichieti? Il futuro è positivo però ci saranno molti cambiamenti da affrontare perché arriva una nuova banca, una nuova mentalità e dobbiamo adeguarci a queste nuove situazioni tenendo presente anche il fatto che unendo delle banche insieme con delle sovrapposizioni sui territori ci saranno anche un po' problemi di esuberi. Quindi bisognerà affrontare queste situazioni, le stiamo già affrontando in Banca Marche, in Banca Etruria e le stiamo affrontando nella maniera migliore possibile quindi nella maniera più morbida per quanto riguarda i lavoratori. L'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente fra i promotori della convention Abruzzo 2030 guarda al futuro del Partito Democratico non confermando ma neanche smentendo una sua candidatura alle politiche. Abruzzo 2030 si guarda al futuro, alle prossime elezioni, ai prossimi appuntamenti, qual è lo stato di salute del Partito Democratico? Il Partito Democratico io credo che in Abruzzo soffra un po' della crisi che c'è in questo momento come organizzazione del partito però già potete vedere che abbiamo molti circoli, c'è una ripartenza importante. Poi credo che stiamo avviandoci a fare quello che dovrebbero fare tutti i partiti politici, che è il senso stesso della politica. La politica si deve sforzare di guardare avanti, questa è la cosa importante. Allora noi ci apprestiamo a ragionare su qual è la nostra idea dell'Abruzzo di qui al 2030. Lei pensi grandi temi del lavoro, grandi temi dell'innovazione tecnologica, grandi temi della sanità. Dovremmo cominciare a chiederci qual è in effetto la necessità prestazionale, cioè di cosa avranno bisogno i nostri concittadini da un punto di vista dei servizi sanitari, anche considerando l'andamento demografico. Questo vuol dire un grande lavoro di elaborazione, di ascolto e cominciare a coinvolgere soprattutto chi? Coloro che nel 2030 saranno i giovani uomini e i giovani donne più impegnati a portare avanti questa regione. Magari facessero tutti i partiti anziché inseguire in questo momento i populismi. Oggi in questo momento è facile, niente va bene, niente funziona e così via. Ma non ci sono ricette se non quelle che nascono da una grande elaborazione politica, che è fatta soprattutto di studio e confronto. Il futuro di Massimo Cialente è a Roma? Io credo che ci siano tanti nomi per poter candidare. È chiaro che in questo momento la valutazione va fatta con molta attenzione per qual è il meccanismo elettorale che vengano candidati la persona più utile in questo momento. Perché questa dell'uninominale è un ritorno a quello che era il mattarellum. Io nel 2001 venni eletto alla Camera su un collegio che era dato per perso ma perché era un confronto fra diverse personalità. Quindi sarà interesse del partito coniugare le più forti, a mio avviso, anche in tentativo di andare a un rinnovamento. Bisogna cominciare a lavorare per l'Abruzzo e per il partito piuttosto che su destini personali. Presentato oggi in Camera di Commercio a Pescara l'Incoming previsto per metà gennaio di una delegazione composta da tour operators, giornalisti e blogger del settore turistico provenienti da Danimarca, Inghilterra e Germania. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto per la promozione del territorio promosso dalla Camera di Commercio di Pescara ed approvato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Vediamo. Presidente Becci, oggi presentate questa iniziativa che rientra in un progetto più ampio che poi a metà gennaio vedrà arrivare in Abruzzo anche tour operator da diversi paesi europei. Sì, parliamo di un progetto a cui il sistema camerale italiano sta puntando molto che è il famoso incremento del 20% e a Pescara in particolare abbiamo fatto questa scelta di puntare questi circa 400-500 mila Euro che derivano dal 20% che le imprese versano in più per cui finanziamenti solo delle aziende e noi abbiamo deciso di puntare tutto sul turismo, sul settore del turismo e dentro a questo progetto per il 2017-18-19 perché riguarda tre annualità, quindi quella cifra va moltiplicata per tre. Noi stiamo facendo un discorso più ampio, lucida artista è quello più visibile e sotto gli occhi di tutti, ma come diceva bene lei attorno ci mettiamo in coming e perché stamattina la presenza del Professor Mattoscio più, come dico io, in veste di Presidente di Saga? Perché con il Professor Mattoscio, con la Saga si è condiviso appunto le rotte che già sono in essere per cui da qui costruire questo progetto dove lucida artista ha l'impatto più visibile. L'aeroporto coglie questa occasione che è uno sforzo importante del sistema camerale da un punto di vista economico e organizzativo, finalizzato a rilanciare il prodotto Abruzzo in quanto tale. Bisogna però sottolineare che l'obiettivo della visibilità è difficile raggiungerlo se non si riesce a fare sinergie tra i valienti che possono contribuire a sostenere l'intento e nel caso sia l'aeroporto sia la Fondazione Vesca Abruzzo condividono l'iniziativa della Capra di Commercio e quindi si rendono disponibili a contribuire in tal senso. Bisogna sempre ricordare che oltre all'obiettivo della visibilità della regione e dei nostri territori in quanto tale occorre anche sforzarsi nella direzione dell'accoglienza, dell'organizzazione dell'accoglienza. Dura presa di posizione di Casa Artigiani Abruzzo che con altre associazioni di categoria ha chiesto al governatore D'Alfonso chiarimenti su come la regione sta spendendo i fondi europei. Gli artigiani abruzzesi vorrebbero sapere dove sono andati a finire gli strumenti di sostegno previsti per le imprese del comparto. Tania Bonnici Castelli. Le associazioni Casa Artigiani, CLAI, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti regionali hanno inviato una lettera al presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per richiamare l'attenzione sullo stato di avanzamento dei programmi europei vista la situazione di scarsa conoscenza su progettazione e gestione. Le sei associazioni chiedono al governatore un incontro pubblico nel quale la regione possa illustrare in modo dettagliato per ogni singolo asse lo stato dell'intera programmazione comunitaria al 31 dicembre 2017. In poche parole le associazioni chiedono ad Alfonso dove sono gli annunciati strumenti di sostegno alle imprese e alle loro iniziative occupazionali? Qual è la vostra protesta? Beh, tu Casa Artigiani insieme a tutte le altre federazioni regionali piccole e medie imprese ha scritto una lettera diciamo molto molto particolare al presidente della giunta regionale. c'è un problema di rapporti con la giunta, ci sono state in passato molte diciamo promesse di incontri anche diciamo di studiare insieme delle progettazioni interessanti per il lavoro autonomo abruzzese e purtroppo però questi impegni sono sempre disattesi. Abbiamo lanciato l'allarme proprio sulla gestione dei fondi dell'Unione Europea in quanto diciamo manca da parecchio tempo un tavolo diciamo per vedere di verifica anche del lavoro svolto. Ma dall'Europa voi che cosa vi aspettate e soprattutto cosa c'è in Europa? In Europa ci sono dei fondi molto interessanti per quanto riguarda la formazione professionale, per quanto riguarda il credito. Noi abbiamo attivato un tavolo regionale il 3 gennaio del 2017, siamo oramai alla fine di questo anno e purtroppo questo tavolo non ha portato alcun risultato. Sul settore dell'artigianato le cose non vanno un pochino meglio? Purtroppo l'artigianato abruzzese soffre tantissimo per una questione anche congiunturale rispetto ad altre regioni la ripresa è minore come anche il discorso delle nuove PMI che si iscrivono alla Camera di Commercio. Però ecco anche in questo caso abbiamo chiesto all'assessore Lolli una maggiore attenzione. Da parte dell'assessore grande disponibilità, grande volontà, poi come al solito la colpa è sempre di qualche dirigente e non si riesce neanche a rimodulare un fondo di garanzia per esempio che è un aspetto importante per le imprese che vogliono avere il credito. Sconti sulla Tari per tutta quell'attività come supermercati, pizzerie, panetterie che doneranno beni alimentari alle famiglie bisognose. Questa è la delibera che presenteranno nella prossima seduta di Consiglio Comunale i consiglieri Piernicola Teodoro e Massimiliano Pignoli della lista Teodoro per Pescara. Teodoro presenterete nel prossimo Consiglio un importante delibera per quanto riguarda gli esercizi commerciali che aiutano le persone bisognose. Voi proponete uno sconto sul pagamento della Tari. Le attività commerciali che vorranno partecipare potranno avere un beneficio fino a 200 euro annui di agevolazioni sui costi della Tari. Questo a fronte di quale servizio? Si affronta di un servizio da dare in collaborazione con le associazioni umanitarie, associazioni che sono presenti sul territorio che aiutano le famiglie più bisognose. Abbiamo messo in piedi un progetto che al Comune ha un costo pari a zero, ricadente per ogni cittadino parliamo all'incirca di un centesimo, ma sicuramente questo progetto potrà aiutare qualcuno ipotizzato fino a 5.000 famiglie, ma nella obiettività vera, con il risultato vero parliamo di 1.500 barra 2.000 famiglie bisognose nella nostra città. Consigliere Pignoli, il vostro auspicio è che questa delibera possa avere il consenso unanime dell'Aula. Quando ci sono queste delibere poi la politica deve fare un passo indietro e deve invece farne 10 avanti il sociale, per cui spero e penso, ma sono sicuro che tutta l'Aula, a prescindere dalla maggioranza opposizione destra, sinistra e centro, possa accogliere favorevolmente questa iniziativa. Iniziativa che ha un padrino particolare? Sì, io e il collega Teodoro abbiamo voluto che questa delibera fosse battezzata da Gianfranco Sembroni, noto conduttore sportivo di una locale emittente, perché anche all'interno dello sport lui spesso, anzi parla sempre di sociale. Per cui l'ho invitato, ieri sera, proprio ieri pomeriggio, proprio in ultimo, lui prontamente è intervenuto qui e ci ha onorato dalla sua presenza e che lo ringraziamo pubblicamente. Gianfranco Sembroni, importante essere sempre al fianco degli ultimi, anche perché gli ultimi dati dell'Istat dicono che purtroppo anche in Abruzzo aumenta il numero dei nuovi poveri. Mi auguro vivamente che questa delibera possa andare avanti nel vero senso della parola e che possa essere utile a tante persone che hanno tanto bisogno. Una nuova organizzazione per l'Asl Aquilana relativa al ritiro dei referti. Le tante lamentele degli utenti spingono l'azienda a trovare nuovi spazi. presto nuovi locali e più personale, annuncia il manager Tordera. Un piano elimina code, quello varato dall'Asl dell'Aquila, per venire incontro alle esigenze dell'utenza che in più di un'occasione ha manifestato malumori relativi alle file per il ritiro dei referti del laboratorio analisi. Attualmente infatti esiste un solo sportello ubicato nei pressi del CUP dell'ospedale San Salvatore Accopito. Un solo addetto dipendente di una cooperativa a gestire il servizio. Ogni qualvolta che si assenta per ferie o malattie è il caos perché l'ospedale sposta il servizio ritiri per due ore al giorno direttamente al laboratorio analisi, dove si fanno prelievi e accettazioni. L'Asl risponde con un piano concreto e attraverso il manager Tordera fa sapere di avere già individuato dei locali donne che necessitano solo di pochi interventi per spostare vicino al laboratorio stesso lo sportello per il ritiro, dotandolo di più personale ovviamente. Una nuova logistica quindi che permetterà di evitare le file, anche se vale la pena ricordare che ormai 5 utenti su 10 preferiscono l'acquisizione dei referti online. Ormai questo è il futuro del resto, una modalità per evitare proprio le fastidiosissime file. La modalità di acquisizione dei referti online infatti oggi si attesta intorno al 46%, una percentuale in salita rispetto ai dati del 2016. Ma per chi ancora preferisce ritirarli a mano, presto ci sarà questa nuova organizzazione che SLA-Asl metterà a disposizione in tempi irragionevolmente brevi, una volta risistemati i locali individuati. La Dricesta, nell'imminenza delle festività natalizie, organizza due eventi per il 9 e il 16 dicembre in collaborazione con il Tribunale di Pescara e il Porto Turistico Marina di Pescara per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di arredi per il reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Il bambino ha sempre paura anche se si è tagliato un dito semplicemente e va rassicurato. Fermi della nostra convinzione che un comfort e un'ospitalità migliore negli ambienti ospedalieri sicuramente rassicura il bambino, lo aiuta ad affrontare meglio le cure e noi diciamo che quando un bambino si sente protetto forse diventerà un adulto anche migliore. Abbiamo fatto questo appello a tutta la comunità perché il progetto è molto ambizioso sforiamo con presa IVA che noi paghiamo al 22% circa 160.000 euro e il Marina di Pescara con il Porto Turistico e tutti gli altri organizzatori hanno inteso creare questo bellissimo evento delle cover band con cena più spettacolo a favore dell'associazione. Sarà una serata sicuramente all'insegno del divertimento, dell'allegria, della nostalgia nei confronti di questi grandissimi personaggi della musica italiana ma soprattutto sarà una serata per raccogliere fondi per gli arredi del reparto di pediatria. Sicuramente con Adricesta siamo fianco a fianco in questa battaglia. Invitiamo tutti i pescaresi, tutti quelli che vorranno unirsi a noi per questa iniziativa di sostegno sabato 9 dicembre al Porto Turistico di Pescara con E Cantava le Canzoni. Seguirà poi sabato successivo 16 dicembre la seconda edizione della Festa degli Auguri. Proprio questa mattina ho avuto la conferma che anche la prima delle finaliste delle donne di tale quale show, Valeria Altobelli, sarà con noi insieme a tutti i grandi artisti che già hanno dato la loro adizione. Parliamo di Manuel Aspi, di finalista anche di The Voice e del programma Amici di Maria De Filippi. Parliamo dei Ditelo Voi, un trio comico forte degli ultimi successi di Made in Sud sul Rai 2 e anche di Colorado, di Manuel Casella che da anni, oramai da più di 11 anni al nostro fianco nelle nostre iniziative e di Dario Richizzi che già l'anno scorso ha partecipato alla prima edizione della Festa degli Auguri del Tribunale della Procura della Repubblica di Pescara. Quest'anno abbiamo ripetuto l'esperienza volendola fare più in grande perché l'anno scorso è stata realizzata all'interno del Tribunale, quest'anno invece al Circus. Noi riteniamo che sia un fatto importante, il Tribunale è qualcosa che vive all'interno della città ed è giusto che partecipi in qualche modo dove è possibile, è necessario, è opportuno farlo. Per cui noi riteniamo che questa sia una manifestazione importantissima, in cui il ricavato viene destinato alla pediatria. La scuola primaria di via Bosio di Chietiscalo è chiusa da giugno per lavori di smantellamento della pavimentazione che contiene delle particelle di amianto. La conclusione dei lavori era prevista per Natale ma motivi burocratici hanno fatto dilatare i tempi. Nella migliore delle ipotesi il plesso scolastico sarà pronto a marzo 2018, altrimenti tutto slitterà al prossimo anno scolastico. Il servizio di Vestina News. Dal 7 novembre settimanalmente fate questo presidio qui davanti alla scuola di via Bosio, per quale motivo? L'abbiamo chiamato delle merende che facciamo tutti insieme, noi genitori e maestre e alunni, sia attuali alunni che ex alunni di via Bosio, perché siamo molto affezionati alla nostra scuola e non vediamo l'ora di tornare. Quindi stiamo semplicemente aspettando che tutto l'iter si concluda nei tempi più brevi possibili. Siamo fiduciosi perché il Comune sta facendo tutte le tappe previste, però chiaramente siamo qui perché veramente questo posto per noi rappresenta tantissimo. Vogliamo ricordare il motivo perché da giugno è chiusa questa scuola? Sì, è chiusa perché il pavimento conteneva fibre di emianto e quindi è opportuno e per legge è necessario rimuovere il pavimento e procedere con l'installazione di una pavimentazione a norma di legge e quindi siamo in attesa della gara d'appalto che dovrebbe partire veramente a breve e di tornare a lavori finiti nella nostra scuola. Per fortuna i passi, anche se sono stati lenti, ma per fortuna ci sono stati e quindi i passi di legge burocratici e quindi siamo fiduciosi che le istituzioni porteranno a termine tutto quello che ci hanno promesso. È una scuola particolare perché è un progetto veramente speciale in cui i bambini sono continuamente a contatto con l'ambiente, hanno bisogno di uscire fuori, di ritrovare il loro giardino dove non semplicemente ci sono delle piante. Loro nel giardino osservano quotidianamente, regolarmente i cambiamenti perché è una scuola che si basa su un metodo laboratoriale in cui loro osservano i cambiamenti della natura intorno a loro, sperimentano continuamente tutto quello che poi apprendono con la didattica. A partire dall'8 dicembre fino al 6 gennaio a Torricella Sicura di Teramo è possibile visitare il più grande presepe in miniatura d'Abruzzo. Oltre alla scena della natività sono stati ricostruiti momenti di vita rurale dei primi del Novecento. A Torricella Sicura di Teramo scopriamo una inaspettata macchina del tempo, un luogo dove è possibile rivivere le atmosfere dei nostri bisnonni vissuti nelle valli dell'Abruzzo terramano e sui monti del Gran Sasso e della Laga. Dall'8 dicembre al 6 gennaio viene infatti allestito un grande presepe in miniatura e si tratta di uno dei più grandi presepi in miniatura d'Abruzzo. L'esposizione curata da Gino di Benedetto si sviluppa su una superficie complessiva di circa 850 metri quadri di cui 450 sono dedicati ad una sezione museale di scene di vita del passato e 400 alla ricostruzione in miniatura delle scene di vita rurale dei primi anni del Novecento dove i personaggi si animano tra vicoli, case rurali e antiche botteghe artigiane. La passione nasce dal cuore, nasce dalla mia infanzia, ricordi di mio nonno che mi insegnava a vivere e a sopravvivere. Nessuno mi ha insegnato, nessuno mi ha detto fai questa cosa e metti a modo, di mettere al punto giusto, al modo giusto, di seguire una strada. Io ho mischiato, però la roba in grande che ho raccolto con tanto amore, con tanta passione, perché ogni pezzo che tocca per me è una storia, ogni pezzo che tocca ci sta la sofferenza, le lacrime, ci sta l'allegria, ci sta un po' di tutto, ma l'ho trasformato in miniatura per far vedere i bambini come io vivevo, come noi si viveva. Sono tante stanzine, stanzette in cui puoi vedere e puoi immaginare come si viveva. Siamo un gruppo, tante quelle persone, ma chi di più e chi di meno mi ha dato la mano. C'è poi la scena della natività, che è stata realizzata grazie al supporto competente di un anziano scenografo napoletano, che nella sua lunga carriera ha realizzato scenografie per importanti registi e attori al Teatro San Carlo di Napoli e a Cinecittà. D'ora lo sport, come accade da tempo e lunga la lista dell'assenza nel Pescara, che domani alle 18 al Manuzio affronterà il Cesena. Oltre ai noti lungodegenti, ancora fuori causa Campagnaro, Ganze e Coulibaly, c'è Brugman che però non è al massimo. Zeman vorrebbe confermare il centrocampo visto con la Ternana, ma se l'uruguayano non dovesse farcela toccherà a Canute in regia con Carraro, dirottato Mezzala. In difesa Coda affiancherà Fornasier, Mazzotta torna titolare, a destra Zampano favorito su Crescenzi. In attacco Sicuri, Mancuso e Pettinari si ripropone il ballottaggio. Benali Capone nella conferenza pre-gara, il tecnico Zeman ha parlato del momento della squadra e dell'avversario. Purtroppo noi abbiamo queste barriere mentali e non lo so se ci riportiamo dall'anno scorso di Serie A che si aspettava di prendere gol e si rimasti sempre chiusi senza cercare di rifare il calcio nostro. La mentalità, io cerco di cambiarla, insisto, bisogna giocarsela, bisogna cercare di essere sempre attivi anche perché penso che noi a centrocampo non siamo male, avanti non siamo male e dietro abbiamo difetti. E lì il problema di nuovo di mentalità, noi giocavamo a vincere poi si poteva anche perdere, questa squadra ancora non ce l'ha di giocare, di entrare in campo e dire noi ci dobbiamo passare di sopra, noi spesso anche su partite vinte perché noi abbiamo perso nove punti così, ci accontentiamo che abbiamo fatto benino e poi ci ritiriamo e è normale che se ti ritiri, dai possibilità alla squadra anche mentalmente, ci dai sensazione che ce la possono fare. Quella squadra invece non dava mai sensazione all'avversario che ce la possono fare. La Beccizena è una squadra che a parte classifica però hanno fatto tanti risultati utili ultimamente. è una squadra che lotta, che lotta, magari gioca poco, costruisce poco però lotta su ogni pallone, fisicamente dietro il centrocampo ci sono, davanti gioca solo in questo momento all'avversario che è sempre giocatore difficile da prendere. Una squadra corta verso dietro che aspetta l'avversario, poi ripeto come fisicamente sono messi bene, poi cercano di ripartire. Il problema è quando quando li facciamo ripartire. Vabbè Castori per me, a parte che mi piace come persona anche se qualche squalifica la presa perché dice quello che pensa. Le sue squadre erano sempre esse quelle, visto che non aveva mai una squadra da primi posti, lui imposta la squadra in modo migliore per la squadra, per la società e penso che ha ottenuto sempre quasi massimo da quello che poteva fare. In chiusura parliamo di Serie 10, ancora attenzione a Francavilla tra la società di calcio e l'amministrazione comunale. Di oggi infatti la comunicazione del Francavilla Calcio che la prossima gara di campionato si giocherà domenica 10 dicembre alle 14.30 non al Valle Anzuca, bensì allo stadio Aragona di Vasto. Dunque Francavilla emigra a Vasto e poco dopo questa comunicazione è arrivata questa risposta del primo cittadino, del sindaco Antonio Luciani che dice, visto il chiaro disegno della società di mortificare coloro che seguivano le gare interne dalla tribuna e in generale il movimento calcistico francavillese, non ci resta che disporre momentanamente l'affidamento dello stadio in favore del Villa 2015, seconda squadra della città per categoria. Il Comune pubblicherà altresì a breve una manifestazione di interesse per verificare se vi sia da parte di qualcuno intenzione di investire sulla struttura modernandola in cambio della sua concessione per un numero di anni analogamente a quanto è stato immaginato nella vicina Pescara. Con finanziamenti privati ciò sarebbe possibile e auspicabile. Ovviamente quando il Francavilla Calcio vorrà rientrare nella sua casa sarà libero di farlo. Fino a quel momento, come disposto dal nostro regolamento, lo stadio Vallianzuca sarà a disposizione delle società aventi diritto. Bene, questa era l'ultima notizia del TG6. Il nostro notiziario tornerà più tardi con la terza edizione delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per la visione!